Nell'anno 2016 gli incidenti stradali in Campania sono aumentati di oltre il 7% rispetto al 2015 a fronte di un'analoga diminuzione del numero delle vittime. Sono i dati che emergono dal rapporto Istat sull'incidentalità stradale illustrati nel corso di un seminario in sala giunta insieme alle politiche di sicurezza messe in campo per ridurre il numero di vittime sulla strada. L'incontro, nel corso del quale sono stati approfonditi anche i dati della città metropolitana di Napoli, è servito a fare il punto sugli obiettivi europei in tema di sicurezza stradale e sui costi sociali di un fenomeno che grava notevolmente sulla società. Solo nel 2016 il costo dell'incidentalità con danni alle persone è stimato in oltre 17 miliardi di euro per l'intero territorio nazionale e in poco più di un miliardo in Campania.